Quarto appuntamento di Arezzo Nascosta, la rassegna musicale organizzata dall'Orchestra Instabile di Arezzo allo Spazio Seme. Protagonisti giovani, non solo gli studenti del Liceo Musicale Francesco Petrarca di Arezzo, ma anche gli allievi di Danza Aerea. Sono andando due gruppi di musica da camera che si sono formati all'interno del Liceo Petrarca di Arezzo, il Liceo Musicale. Uno disastrio dove sarò presente anch'io come pianista e poi il Quintetto Zero. Posso parlare sicuramente a nome mio, ma ovviamente anche a nome di tutti i miei colleghi, gli altri alunni. Quindi il Liceo Musicale è un'opportunità sicuramente molto importante per noi, molto formativa. Appunto avere un concerto tutto nostro, si può dire un concerto vero, anche senza nulla togliere tutti i momenti che già abbiamo all'interno della nostra scuola. Tuttavia appunto questo è sicuramente un momento molto importante per la nostra formazione, siamo molto contenti di poterlo condividere. Spazio Seme è una SNC, una società, è un luogo dove si fa formazione, produzione. L'abbiamo chiamato Spazio Seme Arti in Movimento perché riunisce il teatro, la danza, la musica, il disegno, ma anche tante altre attività. Nella formazione in progetti locali, come con Oida, nazionali e internazionali.